Sono Michele Pedroni, campione italiano di Downhill Master 1, siamo venuti a vedere, a visionare il percorso per l'europeo, è breve ma è tost, è duro, con tante radici, tanto da pedalare, sarà difficile. Sono Giorgio Jannis, siamo in squadra assieme, sono venuto anche io a vedere il percorso, visto che abito vicino, ho approfittato per visionare già per l'europeo insomma. No no, è già lui campione italiano, io quest'anno non vado. Vedremo. Tutti e due nella 30-35? Esattamente, sì, esattamente, tutti e due nella 30-35, Master 1. Saranno forti gli italiani? Vengono anche altri? Eh, ci sono parecchi italiani forti, sono passati tanti in categoria ex elite, sono messi nella categoria Master e quindi ce ne è parecchi insomma. Uno su tutti direi Paolo a leva, da tenere d'occhio sicuramente. Comunque tra i più forti in Italia, ecco anche lui. Grazie! Grazie a te! Ciao!